Le superfici più delicate hanno bisogno di cure altrettanto delicate. Con il kit salva marmo di Fila, ripristina la lucentezza dei marmi aggrediti da sostanze acide. Fila Marble Restorer è un kit completo per il ripristino del tuo marmo. Tre parte, una spugna, guanti e due prodotti. Fila Marble Shine e Formula Marmo. Segui con attenzione questi semplici passi e ottieni un risultato professionale. Inizia con la levigatura. Indossa i guanti, bagna la superficie con poca acqua e strofina circolarmente per un minuto con il pad giallo Fila Marble One. Poi passa al pad bianco Fila Marble Two e strofina con maggiore pressione per alcuni minuti. Infine fai lo stesso con il terzo pad, Fila Marble Three, strofinando su una superficie leggermente maggiore. Asciuga con un panno. Passa poi alla lucidatura. Agita il flacone di Fila Marble Shine e versane una piccola quantità aggiungendo un po' d'acqua per fluidificare la crema. Con la spugna bianca strofina energicamente per almeno due minuti. Infine passa il Polish Formula Marmo per rendere più omogeneo l'intervento massaggiando la superficie. Uno, due, tre. Tutto è lucido come prima. Attenzione, non tutte le aggressioni acide sono uguali. Leggi nel libretto di istruzioni la procedura corretta in base al tuo tipo di macchie. Fila Marble Restorer è ideale per il recupero di top cucina o bagno ma anche di davanzali, gradini e soglie rovinate. Ed elimina efficacemente perfino le opacizzazioni da usura. Funziona su tutti i marmi e agglomerati di marmo lucidi. Fila Marble Restorer ripristina la lucentezza dei marmi aggrediti da sostanze acide. Lo trovi nelle migliori rivendite di pavimenti, ferramenta, colorifici e fai da te. Scarica la app o vai sul sito filasolutions.com per trovare il punto vendita più vicino.